Sindaco Pavone parliamo della riserva del Borsacchio, ci sono novità sul PAN ma non solo. Sì, la riserva del Borsacchio che in questa città ha tenuto banco per tanti anni questo argomento, ecco finalmente noi siamo riusciti anche a concretizzare alcuni atti amministrativi che erano bloccati sicuramente non per cattiva volontà ma perché c'erano degli incarichi dati precedentemente per la compilazione del piano di assetto naturalistico alla famiglia Nigro e noi abbiamo dovuto prima chiudere i rapporti con il professor Nigro e i suoi eredi con un atto di transazione che abbiamo concluso nel mese di dicembre e quindi adesso siamo arrivati ad affidare la revisione del PAN prendendo tutto quello che di buono c'era in quello precedente e togliendo quello che invece secondo noi non andava bene e abbiamo affidato all'architetto Fabrizio De Gregorisi l'incarico di ridigere il piano di assetto naturalistico. Abbiamo anche affidato la gestione all'associazione Ambiente e Vita e anche poi all'avvocato Benigno Dorazio il piano di attuazione. Questo pseudo commissariamento che la regione ha fatto qualche mese fa ma che in realtà non poteva nei termini in cui l'ha fatto e che è servito solamente a dare adito sulla stampa a rimarcare le problematiche inerenti alla riserva del Borsacchio. Le attività le stiamo facendo e stiamo andando avanti in base a quelli che erano i nostri programmi. Finalmente una riserva che diviene fruibile, diviene visitabile e che finalmente sarà a tutti gli effetti un'altra arma in più per l'offerta turistica di questa città. Un vanto di questa amministrazione che può continuare a portare avanti un lavoro svolto e che ci auguriamo quindi possa durare per tanto tempo.